dobbiamo abituare i nostri ragazzi i nostri bambini a comprendersi la risonanza emotiva quando si parla di risonanza emotiva cosa significa bambino piccolissimo cosa conosce la rabbia il pianto non è che conosce la solitudine la gioia la noia non conosce queste cose semmai è l'adulto che gli dice perché ti senti in questo modo come mai cosa stai provando adesso cosa questo cosa significa che tu lo stai aiutando a identificare delle emozioni no che sta sentendo in modo tale che lui quando le riconosce sa piano piano come gestirle questo processo diciamo procedimento si verifica man mano che il ragazzo cresce se vedi si sente da solo e noi lo vediamo isolato oppure peggio ancora c'è da dire questo i social la televisione e quant'altro cosa hanno messo a risalto la cultura dell'apparire no la cultura di mettersi in mostra per cui deve essere attivo come dicevi tu super energetico magari devi avere il fisico fatto in un certo modo perché se non appare non sei nessuno quello che non riesce ad emergere nel campo scolastico e e si sente quel vuoto interiore e soprattutto a delle problematiche familiare troverà una strategia perché ricordiamoci che l'energia vitale dei ragazzi come abbiamo detto prima c'è la forza costruttiva e la forza distruttiva no che può essere quindi costruttiva distruttiva e autodistruttiva ok cosa succede che nel momento in cui non riesco ad emergere in un altro modo emergo nell'altro ecco che allora sorge emerge il fenomeno del bullismo o del cyberbullismo diventa autodistruttiva quando quando subentra l'angoscia quando subentra il timore di aver ferito una persona troppo cara per cui tu hai rovinato quella tua identità in quella piccolo grande comunità che per te ha un valore assoluto e per cui piuttosto che sentirti dire da tuo padre ma cos'è combinato cos'è fatto e robe varie magari piuttosto che sopportare no il peso di un'angoscia di aver continuato a dire non ce l'ho fatto con gli esami si arriva a questo punto ecco che allora i ragazzi vanno accompagnati non si può dire ha superato ormai vada solo a comprare il pane vada solo in palestra rientra tardi non è l'autonomia fisica ok quella un'autonomia fisica cioè il bambino ormai a cinque sei anni va in bagno da solo si pulisce anche da solo il ragazzino meccanicamente può imparare a portarti il motorino la macchina anche se non ha preso ancora la patente ma quello che occorre quello che occorre fino a quando non diventano forti dentro è un'eredità emotiva d'affetto dentro che devi costruire man mano perché la vita non risparmia nessuno questo ce lo dobbiamo mettere in testa per cui il buon genitore deve far capire al proprio figlio che se ti ritrovi da solo e io non ci sono se qualunque cosa possa succedere devi trovare in te la forza perché io ti do gli strumenti per capirlo perché tu non sei da meno di nessuno ok perché puoi trovare l'insegnante che può comprenderti come puoi trovare anche il picco pallo che magari se la lega al dito solo perché gli stai dicendo prof se il cellulare non lo uso io non lo dovremmo usare neanche lei in classe no è un modo di dire ma per riderci sopra ma perché questo perché i ragazzi devono e devono abituarsi a comprendere che la vita è una sfaccettatura no come un diamante dove ci sono tante tanti modi e di poterlo vedere tanti punti di vista non puoi obbligare l'altro a pensarlo come come la pensi tu non per questo ci devi stare male ecco bisogna lavorarci occorre nella scuola l'entusiasmo e soprattutto un'altra cosa costruire con loro con loro il sapere certo tu d'adulto è chiaro vai qui vai la insomma ma loro devono costruirlo devono avere delle soddisfazioni delle gratificazioni intellettuali perché se manca la gratificazione la gratificazione che non è il bravo perché se io me lo riconosco con l'auto efficacia ok ci sta fin quando sono piccoli ma è fondamentale è tutto fondamentale nel senso che insieme bisogna collaborare ecco perché la sinergia scuola famiglia purtroppo scuola famiglia le eccezioni grazie a tutti